GALATICI AMICI GALATICI AMICI Bentornati a questa nuova edizione della Marchetta del Mese In realtà siamo qui per annunciarvi un nuovo grande evento Nonostante quei trucchi infami ci stiano copiando in Germania Con il loro Warhammer Fest prima edizione Noi siamo alla seconda edizione del Varese Fest Sempre in collaborazione con i Baustardi Sempre al Team One Sempre a Varese Nuovo torneo di Aos Il 14 ottobre Corrente anno 1000 Che anno siamo? 1000? 2000? 1218? Che anno è? 2018 Ancora 2018? Controllate sul diario nostrale Ma non vi spoileriamo niente Quindi diciamo 14 ottobre 2018 Team One Quindi domenica 14 ottobre Team One di Varese Sempre in collaborazione Baustardi 2000 punti Full painted E imbazzettati Altrimenti i modelli Non si giocano Saremmo severissimi Come lo siamo già stati Sempre ricchi premi e quotidiano Soprattutto per la pittura Soprattutto per la pittura E tavoli con nuovi scenici fantastici Non imporisterò Mi raccomando ragazzi Partecipate numerosi Ricchi premi Atmosfera bellissima Avversari fantastici E non vediamo l'ora di troppo Che sfendate Venite Grazie amici Ma soprattutto Siamo qui oggi Per annunciarvi Un nuovo 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 Facciamola Vi facciamo